La teoria vichiana dei corsi e dei ricorsi storici della scienza nuova, a mio giudizio, si concilia molto male con una dottrina come quella cristiana che prevede invece l'irripetibilità e l'unicità dell'evento cristico. Lì non c'è alcun corso e ricorso storico, anzi, i corsi e ricorsi storici sembrano essere più congrui con la concezione greca del tempo, che non è di tipo lineare, ma è di tipo naturalistico, ricorsivo appunto. Per cui pensare ai ricorsi storici, ai corsi e ricorsi storici in termini cristiani, secondo me è problematico. Quello che forse possiamo dire è che la Chiesa proprio ora può rinascere più piccola, come diceva Ratzinger, come piccolo resto, come piccolo gregge di cristiani che vogliono piacere a Dio e non al mondo. una cosa mi sentirei di dire, che questa situazione che forse è inedita per certi versi, perché, come dire, in tutte le fasi di crisi della Chiesa, la Chiesa spesso ha paragonato se stessa a una barca, a una barca che deve affrontare la grande tempesta e quindi la Chiesa perennemente si è trovata tra marosi e scogli pericolosi. La differenza è che oggi, paradossalmente, il problema è nella struttura stessa della fede, non è solo della gestione del potere. Paradossalmente, quando c'erano le eresie, o anche quando c'erano le scissioni, quando c'era la riforma protestante, c'era una passione per la verità. Lutero, quando faceva la sua riforma, lo faceva perché era convinto che quella fosse la verità. Oggi, invece, il cristianesimo appassisce proprio perché appassisce l'idea stessa della verità. Se ci pensate, è questo il punto nuovo in assoluto. Il fatto che si produca una sorta di indifferentismo generale su ogni tema, per cui anche tesi come quelle che io sostengo, ma anche che altri sostengono, che in altre epoche avrebbero destato un dibattito acceso, teologico, annegano nell'indifferenza generalmente. Puoi dire quello che vuoi, non importa niente. Anche quando Bergoglio fece la laudato sì, no, la Moris Letizia, pardon, credo fosse il 2016, alcuni cardinali, cioè non, come dire, umili filosofi di periferia, ma cardinali fecero dei dubbi a in cui sollevavano delle questioni a Bergoglio di ordine teologico. Un tempo ci si uccideva addirittura per questioni teologiche, per il sesso degli angeli, come usava a dire. Bergoglio non rispose neanche a quelle questioni, neanche rispose. Eppure è il Papa, il sedicente Papa, che dice di amare i ponti e l'apertura, che ha il tempo per andare da Fabio Fazio a che tempo che fa, e non ha il tempo per rispondere ai dubbi di illuminati teologi e sacerdoti e vescovi del nostro tempo. L'indifferenza generale, l'ateismo liquido, come l'ho definito, questo è, a mio giudizio, il vero problema, la novitas di questa nostra epoca. Quando Bergoglio dice di sentirsi a disagio con l'idea dei valori non negoziabili, che come sapete invece era il cuore della riflessione di Ratzinger, cosa ci sta dicendo? Che non esistono valori non negoziabili? E allora non esiste una verità che deve essere difesa? E allora tutte le religioni possono stare sullo stesso piano? E allora non c'è più la differenza tra il vero e il falso? Qual è? Una volta che si apre questa voragine, dove si va a finire poi? Questo è il punto fondamentale.